Ciao a tutti e grazie per il curiosissimo Aul di Mondadori E se ragazzi Sono stato a Torino e appunto sono entrato da Mondadori Per trovare la Tiger, lì ci sono anche la Mondadori E sono entrato Perché ci sono le sconti Quindi ho trovato una cosina da Tiger Poi ho trovato una cosina Che ve la mostro adesso Guardate ragazzi, questo bellissimo kit per bui di giorno Con le stick, le stencil, le sticky notes Che appunto hanno rimesso il mio Tiger E l'hanno rimesso appunto E me lo sono preso Perché volevo acquistare C'era il mio sorpreso, 2 euro E ora partiamo con Mondadori Da Mondadori non ho trovato roba degli sconti Il roba degli sconti che ho acquistato da marzo Che ho ricevuto un buono sconto E adesso vi mostro Cosa ho trovato a Mondadori Perché sono cose che appunto Non avevo mai visto in nessun'altra cartonerina Per prima cosa ragazzi Ho preso, ho solo due cosine ragazzi Questi bellissimi sticky notes a sushi Ma guardate quanto sono belli Sono della thinking gift Vengo da L'Inghilterra E sono davvero meravigliosi Ma sono davvero stupendi ragazzi Fantastici Ma guardate che belli C'è questo sushi qua con il salmone Il sushi bianco con il riso E questo qua verde con il basabi Non so cosa Sono davvero fantastici Ci sono 300 sti chinostra all'altro dentro E mi piacciono davvero tantissimo Ci andrò subito a fare una corzione A tema cibo E vi vi sta consiglio Se li trovate Questavano 6 euro Perché sono veramente Un pezzo della collezione Vi vi sta consiglio Bellissimi 6 euro Poi ragazzi Ho preso La parte più bella di tutti Un divertentissimo accessorio Da scrivania Composto da sticky notes E si ragazzi Adesso lo apriamo E' fantastico ragazzi E' un tostapane E' praticamente Un tostapane Si Che dentro Ha gli sticky notes I toast sono gli sticky notes Poi comprende anche Un temperino E Ma niente per i tips E' davvero Fantastico ragazzi Questo qua Appena l'ho visto Dovevo prenderlo Mi ha fatto Impazzire Ve lo straconsiglio Su l'altro qua C'era anche rosso Questo qua costava 12 euro Però ne vale davvero la pena E' stupendo Ve lo straconsiglio Io lo sarò un casino Da mettere in quel posto Perché è fantastico Mi piace Tantissimo Pure questi qua Mi piace tantissimo Ma è più questo Ve lo straconsiglio Ragazzi Questa la 12 euro Perché è davvero stupendo Per tutto bene ragazzi Spero che questo Aulemona Dove prima Questo notario Vi sia piaciuto Nel caso fosse così Mettete il like Iscrivetevi al canale E non ci becca Per il prossimo video Bella volta Ciao Ciao Grazie a tutti.